Katia Ricciarelli diventerà cittadina onoraria di San Giovanni in Marignano. Venerdì 16 aprile, presso l'Ottocentesco Teatro Massari, il Consiglio Comunale riceverà la nota cantante lirica ed attrice con una speciale cerimonia che sancirà la consegna della cittadinanza onoraria. Perché si inserisce perfettamente in quello che è l'imprinting della città di San Giovanni in Marignano. Un imprinting caratterizzato fortemente da forti personalità femminili. Abbiamo delle grandi imprenditrici legate alla moda che sono donne, abbiamo il nostro evento principale la Notte delle Streghe che segue il figlio conduttore della donna, la strega donna e la signora Katia Ricciarelli per l'energia, per il legame con l'arte e necessariamente quindi anche con il nostro teatro ci è sembrato uno dei personaggi ideali per cui conferire la cittadinanza onoraria. Domenico 11 aprile invece partirà la stagione del Teatro Massari il cui programma è stato presentato giovedì mattina in conferenza stampa. Il titolo della rassegna che si snoderà ad aprile a luglio sarà Intermittenze per la direzione artistica del Teatro dei Cinque Quattrini. La compagnia è nata ufficialmente nel 1997 che da allora opera costantemente sul territorio romagnolo. Cominciamo subito proprio con questa domenica l'11 aprile con il Teatro della Riette e loro vengono da Castello di Serravale in provincia di Bologna e noi teniamo particolarmente a questo spettacolo che apre perché crediamo che sia anche una novità nel nostro territorio vedere la Riette che fanno un tipo di teatro ancora molto semplice e molto emozionante. Toccano diciamo temi umani vicini e cari a tutte le persone quindi mi invito veramente con tutto il cuore a venire perché ne vale la pena. Poi abbiamo un secondo appuntamento che è il 25 aprile con Daniela Piccari e Lucia Vasini che sono una conferma, loro fanno un concerto, si esibiscono in voci con dei bravissimi musicisti utilizzando poeti quali Baldini quindi di carattere popolare ma veramente in una maniera ironica e divertente. Proseguiamo con Maggio con Teatro Bambino quindi una serie di spettacoli dedicati ai bambini e qui in particolare vorrei soffermarmi su Pestacolo che è uno spettacolo di teatro danza dedicato ai piccolini, quelli che vanno dai 3 ai 5 anni, solitamente per loro c'è sempre poco e noi vorremmo così come novità invece aprire uno spazio anche per i più piccoli. Da qui passiamo a giugno, alla festa delle streghe, qui sarà la nostra compagnia che si esibirà cercando di tenere aperto il teatro per tutte le sere della manifestazione e infine ma non in ultimo un'altra novità, credo che lo sia, è il 25 di luglio quando faremo delle azioni di danza urbana in collaborazione con Collettivo K di Rimini questo per noi è un modo di portare la danza fuori dai soliti schemi e anche di far avvicinare le persone a questo tipo di artisticità. Grazie. Grazie.